Le pagine cancellate dalla storia dell'uomo, episodio 6. Io sono Flavio e questo è il mio podcast. Cari amici, ci stiamo lentamente avvicinando alla comprensione di un nuovo modello sociale non più basato sulla dominanza ma sulla mutualità. Una conoscenza che ci è stata lasciata come eredità dall'antica civiltà gilanica della grande Dea. Nell'episodio 5 abbiamo iniziato a approfondire uno dei meccanismi che hanno imposto il modello Kurgan della dominanza, la violenza. Oggi analizziamo un altro meccanismo importante che ha permesso al modello dominante di assorbire gli impulsi gilanici che emergevano nella storia. La cooptazione. La cooptazione è proprio il fenomeno di inglobare, inglobare quello che sta nascendo. Come i germogli delle piante cercano a volte e riescono a perforare, a fiorare nel suolo anche quando questo è soffocato dall'asfalto, così l'impulso naturale della gilanica a volte e nella storia è affiorato, nonostante il modello dominante al potere. Quando l'impulso gilanico si è presentato troppo forte e diffuso per sopprimerlo, per sopprimerlo con la violenza, l'oligarchia ai vertici ha optato per un'altra soluzione, quella di modificarlo a proprio uso e consumo stravolgendo gli aspetti iniziali. In questo modo il modello di dominanza ha potuto assorbire l'energia propulsiva di questi movimenti, rendendoli addirittura funzionali per rafforzare le proprie posizioni di potere. Il movimento gilanico più importante che ha assorbito questa deformazione è il cristianesimo e quindi oggi approfondiamo questo processo che è avvenuto. Il cristianesimo ha tutte le caratteristiche della gilanica, la mutualità, l'uguaglianza, l'amore, ma dopo un primo momento di rivoluzione positiva è stato soffocato dal potere di Roma. Prima di analizzare a fondo come questo movimento è stato cooptato dal sistema della dominanza, vediamo ora cosa era il cristianesimo nei primi secoli. Allora, innanzitutto dobbiamo registrare che all'inizio c'erano molteplici movimenti e tante confessioni diversi che si rifacevano all'insegnamento di Cristo, ma si basavano su scritti diversi. Questo perché nessun Vangelo è stato scritto da Cristo. Né dai discepoli o persone che l'hanno incontrato personalmente. Esistevano migliaia di versioni diverse, di racconti e storie che circolavano nell'impero romano per parecchi anni dopo la morte di Gesù. In questo periodo di tradizione orale le parole originali sono state cambiate e interpretate chissà quante volte. Infatti la prova di questo è che diversi gruppi scrissero Vangeli diversi e a volte simili, a volte addirittura contrastanti. E si parla veramente di migliaia di versioni diverse, in diverse lingue, in diverse parti dell'Europa. In un simile contesto prendere la lettera gli scritti era già nel secondo secolo decisamente rischioso, ma almeno fino a quel momento i vari gruppi goderono di quella libertà che permetteva loro di sviluppare i principi femminili della gelania, l'amore, la compassione, la mutualità, l'uguaglianza, che comunque erano rimasti come comune denominatore. Quindi nei primi secoli la cristianità in realtà era la somma di veramente molti movimenti, molti gruppi che a modo loro e in modo diverso cercavano di applicare gli insegnamenti di Gesù Cristo. E poi però a un certo punto scese il colpo mortale del modello di dominanza con Costantino. Allora, Costantino era un campione della dominanza. Dopo l'abdicazione di Dio Creziano si è trovato in concorrenza con altri cinque pretendenti al potere e con abilità e ferocia è riuscito a eliminare tutti gli altri. Costantino fece uccidere Massimiliano, vinse Massenzio e Massimino grazie a una alleanza temporanea con Licinio contro il quale poi combatté e vinse e una volta vinto lo fece uccidere. Quindi un profilo della persona nel più classico stile della dominanza. Costantino, feroce in battaglia e abile politico, comprese che il cristianesimo poteva essere un pericolo per l'impero se rimaneva nelle catacombe, ma una risorsa se domato e tenuto con il morso. Questo è sicuramente una consapevolezza radicale che aveva Costantino. Quindi quando nel 313 scrisse l'editto di tolleranza per il culto del cristianesimo dimostrò veramente lungimiranza. E quando nel 325 convocò il concilio di Nicea dimostrò un'abilità politica inusuale. L'appoggio che diede in modo determinante al movimento cristiano, che poi divenne la chiesa cattolica, gli permise anche di guidarne le scelte. Tanto per fare un esempio banale. Lui ha ridisegnato praticamente l'impero e l'esercito. Impero che a questo punto era diviso in prefetture che a loro volta erano divise in diocesi. Un termine che dovrebbe suonare familiare. Chiaramente la chiesa cattolica l'ha santificato. Io capisco che tutti possono cambiare, però nel caso di Costantino non mi sembra che si sia trattata di una redenzione. Visto che un anno dopo il concilio di Nicea fece uccidere anche il suo figlio Crispo e la moglie Fausta. Ma quali sono state le direttive che ha imposto alla nascente chiesa? Allora, innanzitutto eliminazione delle eresie e degli scismi. E questo è il motivo principale per il quale Costantino ha convocato il primo concilio. Costantino sapeva bene che solo avendo una struttura gerarchica avrebbe potuto controllare il popolo, controllando il vertice di una nuova chiesa. Fintanto che c'erano tanti movimenti, era impossibile controllarli per i suoi fini di potere. Altra direttiva è una struttura gerarchica padrilineare. Perché padrilineare? Perché una mentalità di conquistatore, di capo dell'esercito. Lui ha ricostituito e ristrutturato l'esercito. Era chiaro che poteva avere solo un'idea di una gerarchia padrilineare, cioè il padre padrone, il padre è l'uomo forte che domina. E quindi chiaramente le figure femminili sono messe in secondo ordine, dovevano essere cancellate le parti dei Vangeli che mettevano in risalto le figure femminili. Cancellazione in particolare della manifestazione femminile chiamata Sofia, che nei Vangeli gnostici fa scendere le scintille della luce nei corpi fisici dando la vita. Questi sono aspetti interessantissimi che sono emersi con gli scritti di Naga Amadi, che fanno parte, se vogliamo, dei Vangeli gnostici, che sono dei documenti importantissimi che sono emersi circa 50 anni fa. In questi scritti, che sono proprio dei primi cristiani, Sofia è la creatrice, importante questo, è un ruolo molto simile alla grande idea. E il Maestro, Gesù Cristo, è visto come il Maestro che è venuto qua giù dalla pienezza della manifestazione divina, per liberare le scintille che erano state portate dalla Sofia, per destarle dal sonno, per strapparle dal mondo materiale. Quindi da questi scritti originali che sono emersi dal deserto egiziano, appare in modo evidente che in questi movimenti cristiani del primo cristianesimo, la figura della grande Dea Madre era ancora molto forte. Comunque, riprenderemo più avanti questi aspetti. Rimane interessante anche in che modo poi si è realizzata questa direttiva di Costantino. Durante tutte le discussioni è interessante notare come hanno raggiunto questo obiettivo, l'obiettivo di eliminare la manifestazione femminile. Cioè hanno creato un falso problema con una disputa sulla differenza che il figlio fosse stato nato, creato o fosse generato dal padre. Interessante questo, un falso problema per eliminare tutto l'aspetto femminile nella religione. Terza direttiva è chiaramente la proprietà assoluta e indiscutibile della Chiesa. Se Costantino voleva avere il potere assoluto controllando la Chiesa, doveva creare nella Chiesa la proprietà di tutte le anime, che poi si è realizzata con una distorsione, con delle aggiunte di alcune frasi. Ad esempio la storica frase «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa», ormai è evidente che è stata un'aggiunta successiva a un Vangelo preesistente. E questo perché è stato fatto? Per giustificare la proprietà e il dominio. Non credo che Costantino abbia proprio dettato le parole, ma ha dato l'indicazione e lo scopo da perseguire. A questo sicuramente ci saranno molti che si ostinano a ritenere che questa frase è autentica. Beh, guardate, tanto per chiarire, innanzitutto mettiamo anche il caso che sia stata autentica, mettiamo anche il caso, ammesso e non concesso. E allora a questo punto è da rispondere, ma perché un singolo movimento doveva essere il legittimo discendente di Pietro e tutti gli altri no? Ok? Almeno rispondano a questo. Dicono che c'è stato un movimento cristiano che è in linea continua con Cristo. Ok, allora, accettiamo, ammettiamo anche questo. Concediamo, ma non ammettiamo questo. E a questo punto facciamogli leggere bene la frase. A questo punto apparirà chiaro che la pietra di cui Cristo parla non è Pietro, ma la sua confessione di fede. E con questo spero di aver chiuso la discussione e definire in modo completo che non c'è nessun motivo per affermare che la Chiesa Cattolica abbia l'esclusività della spiritualità. Semmai questa è una criminale appropriazione in debita. Quindi quello che si voleva raggiungere era un potere assoluto nel più classico modello di dominanza. Ok? Basta vedere chi era Costantino e cosa ha fatto nella vita per capire che la Chiesa è stata un suo prodotto per rafforzare il potere. A questo punto ogni insegnamento gilanico sarebbe stato ingabbiato in un modello di dominanza. Da quel momento in poi l'energia di tante donne e tanti uomini onesti sinceramente impegnati a seguire gli insegnamenti di Cristo sarebbe stata indirizzata, utilizzata e finalizzata per realizzare il potere di pochi. In questa chiave di lettura si capisce come mai insegnamenti così alti di fratellanza, amore e mutualità nella migliore tradizione gilanica hanno causato così tanta sofferenza e così tante atrocità. Quindi 1700 anni fa l'umanità ha perso un'occasione straordinaria di ripristinare l'antica società gilanica con un'affermazione e una convivenza sociale mutuale in contraposizione col modello di dominanza dell'impero romano. ma Costantino con grande abilità è riuscito a cooptare l'intera cristianità inglobandola nella sua sfera di potere e come l'ha fatto? Offrendo l'appoggio e la protezione che è un modo sottile di amministrare la violenza nel pieno modello di dominanza mi spiego meglio Costantino con l'editto di tolleranza non ha eliminato la violenza ma l'ha sospesa non ha eliminato il pericolo della violenza perché in qualunque momento poteva cambiare idea e i vescovi lo percepivano lo sapevano bene infatti Costantino ha potuto esercitare il potere all'interno del concilio di Nicea proprio perché il suo potere non era diminuito anzi potremmo dire che era addirittura aumentato dopo aver fermato le persecuzioni nei confronti di cristiani la protezione o la violenza buona contro la violenza cattiva è un altro modo per mantenere il modello di dominanza veniamo ai giorni d'oggi provate a pensare per quanti anni gli americani ci hanno tenuto sotto il loro dominio perché loro erano i buoni e i russi i cattivi ma se il motivo di riempirci di testate nucleari era quello di difenderci dai russi perché adesso che i russi non sono più così cattivi non se ne vanno se li portano a casa in realtà era solo un grande inganno che adesso non sanno più come giustificarlo fin da piccoli ci inculcono il concetto della violenza buona contro la violenza cattiva l'eroe salvatore è sempre un violento ma sembra sia indispensabile per difendere la principessa in pericolo tutti sistemi di propaganda per iniettarci nell'inconscio concetti del tipo la legge e l'ordine si possono mantenere solo con mezzi brutali oppure per la nostra sopravvivenza è indispensabile l'esercito e la polizia e tante altre fesserie che in realtà causano i veri rischi alla nostra sopravvivenza ma però arricchiscono i pochi che sono al vattice nel primo podcast abbiamo visto che in una società mutualistica la violenza non esiste nelle antiche civiltà gilaniche non c'erano eserciti non c'era la polizia non si sono trovate tracce di armi di nessun tipo in nessun disegno in nessuna rappresentazione non c'erano armi non c'erano prigioni né palazzi in tutti i resti in tutte le città non si sono trovate tracce che fossero riconducibili a prigioni o case più lussuose che fossero riconducibili a palazzi ok ma questo presuppone che non ci sia nessuno in una posizione di potere ogni governo è l'espressione del modello di dominanza che discende in qualche misura dai corgan dal modello di dominanza dei corgan se vogliamo ritornare a un modello sociale gilanico dobbiamo uscire dalla falsa scelta tra violenza buona e violenza cattiva questo è un altro aspetto l'agenzia dell'entrata equitaria che ci pignola la casa non è meno violenta degli eserciti che se ne impossessano con la forza dobbiamo rigettare ogni governo anche se si presenta con la vesta del buono è chiaro che cercherà di vendersi e cercherà di giustificare che lo fa per il nostro bene e per la nostra sicurezza ma in realtà è solo espressione del modello di dominanza affinché pochi dominano sui molti nella società gilanica le immagini del grande Deo erano presenti in ogni luogo, in ogni mansione a ricordare che noi siamo stati generati da lei e lei offre in ogni momento l'amore materno ma eravamo tutti uguali creati tutti nello stesso modo e eravamo tutti sotto la sua protezione le statuette della grande Deo assumono tutte le forme per sostenerci in ogni momento al fine di realizzarci pienamente e in equilibrio con la natura e i nostri simili non serviva la polizia a far rispettare le leggi ma il bene della collettività e il miglioramento della vita e di tutti ha lo scopo di ogni azione e di ogni attività un'utopia? assolutamente no senza la cultura della dominanza tutto si sviluppa in modo naturale e armonico semmai è la cultura del dominio che ha inquinato tutto l'enorme difficoltà nell'estabilire l'antico equilibrio sta nel depurarci di tutto quell'inquinamento culturale che si è depositato nelle nostre menti conscie e inconscie in millenni di cultura della dominanza e su un altro podcast vedremo tutti questi aspetti che influiscono anche oggi in tutta la nostra cultura comunque ci sarà un podcast dedicato solo a questo quale potrebbe essere il primo passo a questo punto? allora prendiamo quindi l'insegnamento da questo che abbiamo visto da questo processo di cooptazione ci sono molti aspetti però un insegnamento che possiamo trarre forse il più importante è che per liberare gli impulsi gilandici non basta la protezione dalla violenza ma serve un nuovo approccio eliminare il pericolo della violenza guardate che questo è un passaggio molto importante perché se io mi limito a difendere una persona non risolvo il problema perché sostengo e alimento la consapevolezza che la violenza esiste ed è presente crea una dipendenza nella persona che difendo diminuisco l'autostima di quella persona e la possibilità che possa essere autonoma con questo non voglio dire che le persone non vadano difese ma che in questo modo si risolve solo una parte del problema nei prossimi podcast vedremo come eliminare il pericolo della violenza senza violenza perché la prima cosa che sorgerebbe spontanea è allora imponiamo un certo modello con la forza affinché non ci sia violenza ma è chiaro che nel momento in cui lo imponiamo con la forza a questo punto è una reiterazione sempre dello stesso modello tant'è vero che tutti i tentativi sociali del comunismo del secolo scorso che hanno tentato di costituire una società dove tutti fossero uguali l'hanno imposto con la forza ma a questo punto il risultato è stato che c'è stato un modello di dominanza ancora più esasperato c'era veramente una piccola oligarchia che controllava l'esercito e controllava tutto il popolo ma allora siamo caduti in un modello di dominanza ancora più drammatico i sistemi devono essere diversi e li vedremo nei prossimi podcast in questo possiamo concludere che nessuna persona dovrebbe temere qualunque pericolo di violenza fisica o economica nessun essere vivente dovrebbe essere in pericolo nessun essere vivente dovrebbe essere in difficoltà economica ecco questo è un aspetto altrettanto importante chiudiamo con questa consapevolezza e poi ci rifletteremo ancora e andremo a approfondire tutti questi aspetti ma una cosa possiamo dire già ad ora che l'idea stessa di povertà è un'invenzione del modello di dominanza la povertà e la ricchezza sono due facce della stessa medaglia il dominio di pochi sui molti un abbraccio e alla prossima grazie a tutti